... Mercoledì 15 marzo, buongiorno da Gabriele Silvestri e dalla redazione, benvenuti al nostro spazio dedicato all'informazione con la rassegna stampa di oggi. Andiamo a vedere i temi principali sulle prime pagine quotidiane e poi le ultime notizie in aggiornamento dal web continuo. Andiamo su Repubblica per il titolo in apertura, voucher solo alle famiglie. Un decreto del governo cancellerà i referendum, la data è fissata ma la legge sarà cambiata per evitare il voto dalle imprese agli artigiani. Che cosa succede? Adesso c'è una data per i due referendum della CGL su voucher e appalti, il 28 maggio. È stata fissata dal Consiglio dei Ministri ma la consultazione è in bilico. Il governo Gentiloni è infatti pronto a cambiare in blocco con un decreto l'intera disciplina ridimensionando in modo netto lo strumento dei voucher. La possibilità di utilizzare i buoni lavoro sarà pressoché azzerata per le aziende e limitata l'uso familiare domestico. Cosa cambierà? Per le imprese alcune torneranno ai vecchi contratti dalla chiamata al tempo determinato ma altri potrebbero scegliere la scorciatoia del lavoro in nero. Il retroscena alla virata di Renzi non è il Jobs Act, disinnescare la mina, evitare che il 28 maggio si trasformi in un nuovo 4 dicembre. Matteo Renzi stavolta non si lascia tentare dalla sfida, amministra il capigruppo del partito e impartisce un ordine di scuderia che non lascia margini a tentennamenti. Abbiamo di fronte la battaglia congressuale e le amministrative. Concentriamoci su quelle. L'analisi di Francesco Manacorda, il bianco e il nero di una riforma. Buttare via il bambino delle riforme assieme all'acqua sporca degli eccessi. Ecco il rischio che corre il governo decidendo che il modo migliore per superare il rischio del referendum promosso dalla CGL sui voucher ideati per pagare le prestazioni occasionali di lavoro, ossia semplicemente un decreto che accolga in pieno le richieste del sindacato, niente più voucher per le imprese, fossero anche quelle individuali ed uso riservato alle famiglie e disinneschi quindi la consultazione. Che i buoni dei 10 euro siano stati utilizzati in questi anni in modo improprio non lo si può negare, nati per disciplinare e far emergere le prestazioni di lavoro saltuarie sono stati usati troppo spesso in modo improprio per fare lo slalom tra lavoro nero e forme contrattuali definite che sarebbero state più degne di applicazione. A centro pagina troviamo la fotonotizia, il divieto del velo al lavoro è una risposta intollerante, scrive Roberto Toscano alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha dichiarato ammissibile in quanto non discriminatorio il divieto di indossare il velo islamico sul posto di lavoro, aveva ovviamente il dovere di pronunciarsi essendo stata interpellata dai più alti livelli giudiziari di due paesi membri come Francia e Belgio. La cyber guerra è fra noi, parla Graziano capo di stato maggiore, ora i hacker nella difesa. Al comando delle cyber war nella nuova forza da sbarco il generale Claudio Graziano, numero uno di tutti i militari italiani presenta i piani della difesa futura, una forza armata sempre più integrata superando le gelosie dei corpi e annuncia l'arruolamento di hacker selezionati tra i giovani delle università. dagli esteri oggi le elezioni turchi d'Olanda perché Wilders è la nostra paura, vedi pochi immigrati per le strade della città natale del leader islamofobo Gert Wilders nella provincia cattolica di Limburgo, la più meridionale e depressa d'Olanda. L'intervista a Welsh l'Europa tende la mano alla mia Scozia, una Scozia però europea potrebbe diventare il simbolo di un'Europa progressista, lo scrittore Irvine Welsh è schierato per l'indipendenza della sua terra. In taglio basso su Repubblica troviamo l'azienda dei genitori felici, uno stipendio in più a chi fa figli, il bonus bebè dell'impresa brazzale, c'era bisogno di dare un segnale chiaro, l'Italia e l'Europa devono rimettere i bambini al centro della vita, da imprenditore ho cominciato facendo concretamente la mia parte. Roberto Brazzale, 54 anni e tre figli, conduce la più antica azienda lattiera casearia del nostro paese, a Zanè, nel Vicentino. E poi ancora nasce la Banca della Terra per i nuovi contadini Under 40, lo Stato mette in vendita 8 mila ettari coltivabili. Se non è il lavoro, almeno la terra che è bassa, dura, a volte crudele, ma che messa in mano ai giovani potrebbe trasformarsi in risorsa economica. E anche a partire da questo semplice ragionamento che il Ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina, darà il via a una delle più grandi vendite di terre pubbliche. Si parte con 8 mila ettari che verranno collocati a partire da oggi. La cultura al Meso Egizio torna a scavare tra gli ultimi segreti dei faraoni, da Torino a Saccara, storia da riscrivere. Continuiamo adesso la nostra rassegna stampa con la prima pagina del Corriere della Sera. Anche qui, voucher, un decreto anti-voto. Le misure, il provvedimento farebbe cadere uno dei due quesiti, pene più severe per i furti. In casa, referendum il 28 maggio, Gentiloni impegnati a correggere le norme. Corsa contro il tempo per evitare il referendum sui voucher, già fissata la data per la consultazione, il 28 maggio. Prima di allora il governo lavorerà per approvare un decreto legge che renderebbe inutile il ricorso alle urne. Il decreto potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri già venerdì. Correggeremo le norme, garantisce il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Intanto il governo ha chiesto il voto di fiducia sulla riforma della giustizia penale. La legge delega prevede l'inaspirimento delle pene minime per i furti e un giro di vite sulla pubblicazione delle intercettazioni. Dario Di Vico commenta, così non vince il lavoro. Tra i tanti danni, la grande crisi, un riflesso positivo lo aveva comunque fatto registrare. Il mondo dell'impresa e quello del lavoro erano apparsi meno distanti di prima, quantomeno avevano percepito di essere dalla stessa parte della barricata. Gli avversari comuni erano diventati il capitale finanziario, la competizione al ribasso imposta dalla globalizzazione, l'incapacità della politica di produrre soluzioni. La consapevolezza di coltivare interessi omogenei non ha annullato nel frattempo la fisiologica dialettica sindacale e anzi ha favorito nel giro di un anno e mezzo il rinnovo di tutti i principali contratti di lavoro del settore privato. Lo scontro di civiltà nell'urna Olanda, Unione Europea e Islam oggi. I riflettori della politica europea e internazionale sono tutti puntati sulle elezioni che si svolgono in Olanda. Mai nella sua storia recente questa piccola nazione era stata oggetto di così tante attenzioni. Un chiaro segno che la globalizzazione ha ormai assunto anche una dimensione politica, le scelte degli elettori di ogni singolo paese hanno conseguenze rilevanti per tutti gli altri, soprattutto all'interno dell'Unione Europea. La posta in gioco è alta. I risultati olandesi influenzeranno due questioni centrali della politica europea, i rapporti con l'Islam e il futuro stesso dell'Unione Europea. Il Partito della Libertà è stato il protagonista della campagna elettorale, il suo leader Gert Wilders ha non solo fomentato la protesta contro gli immigrati extracomunitari, ma ha anche espressamente attaccato l'Islam definendo il Corano come un libro pieno di odio e violenza, più antisemita del Mein Kampf di Hitler. Questo è il virgolettato attribuito a Wilders. L'altro bersaglio è stata l'Unione Europea, accusata di mettere a repentaglio la sicurezza fisica con attacchi terroristici e sociali, tagli al welfare dei cittadini olandesi. Se il partito Wilders arrivasse primo diventerebbe molto difficile formare un governo all'AIA per una sorta di effetto domino, aumenterebbero anche le chance di affermazione delle varie forze sovraniste e xenofobe presenti in molti altri paesi, soprattutto in Francia dove si voterà a marzo e in Germania a settembre, oltre che in Italia entro febbraio 2018. In taglio centrale il piano MPS verso meno aiuti e Bruxelles chiede maxi tagli. L'impegno del governo per salvare il Monte dei Paschi di Siena, inizialmente stimato in 6,6 miliardi di Euro, potrebbe ridursi a un importo tra i 5 e i 6 miliardi in testa tra Roma e Bruxelles e Banca Centrale Europea, non sarà comunque indolore, non solo gli investitori professionali dovranno partecipare al salvataggio perdendo 2,2 miliardi sul valore dei loro crediti verso la banca, ma il piano dovrà ridurre i costi e il personale ben più di quanto previsto finora dall'Istituto di Siena, 5 mila uscite contro le 2.600 che erano state preventivate. A centro pagina la fotonotizia ritrae il calciatore Messi con il piccolo figlio Tiago che non ama il calcio, i figli dei fenomeni e la scelta di una vita normale, il peso di essere figli di personaggi famosi dai piccoli Messi che non seguono le orme paterne al figlio del filosofo Severino che fa lo scultore fino all'estremo contrario quando sono i genitori oscurati dalla fama e notorietà dei figli. Adesso ci fermiamo, piccolo break per noi, torniamo con tutte le altre notizie di oggi e gli aggiornamenti dall'Weber.